Buongiorno da Edo, bentornati in questo podcastino di Tech News. Oggi parliamo di Cyber Security, torniamo a parlare di Cyber Security perché rispetto a quello che vi avevo raccontato la settimana scorsa ci sono degli aggiornamenti, sono anche abbastanza frizzanti, però di quella frizzantezza che dà un po' fastidio anche, no? Che è un po' troppo, che la bevi, non è che dici, mmm, che bella effervescenza, no? Questo è un po' troppo. E infatti, insomma, le notizie non sono super confortanti, però, insomma, andiamo a vedere un po' quali sono gli aggiornamenti. Prima di tuffarci però in questa piscina di acqua frizzante vorrei farvi un piccolo intro, un piccolo spieghino perché spesso quando in Spark Fabric, dove lavoro, parliamo di Cyber Security ci riferiamo a due tipi diversi di Security come spesso ama sottolineare il mio CTO Paolo cioè la Cyber Security ha la vecchia, la tradizionale, ecco, la classica Cyber Security che è quella fatta di pen testing, di scan delle porte, di attacchi man in the middle insomma, di attacchi che riguardano più che altro la rete, la network con hacker incappucciati che cercano di sfruttare delle debolezze nella rete e poi entrare, no? Come nei film, con quelle schermate tutte nere con lettere verdi che girano dappertutto e poi a un certo punto dicono sono dentro, no? Quindi quella Cyber Security classica, ecco ma invece la Cyber Security nuova, moderna che è quella che chiamiamo Cyber Security della supply chain ed è quella su cui ci si sta concentrando di più, no? Su cui anche le istituzioni stanno cercando di legiferare per regolamentarla perché quella effettivamente può essere irrobustita adottando una serie di pratiche Allora, però, a cosa mi sto riferendo quando parlo di supply chain security? La supply chain è, in pratica, una parola naturalmente inglese che si riferisce alla catena di approvvigionamento ed è un termine che si usa praticamente in tutte le industrie, no? Quando voi comprate un prodotto, quel prodotto è il risultato industriale dell'unione di prodotti diversi, di materie prime poi di un packaging e poi di una spedizione da voi Ecco, tutti questi passaggi che portano poi alla creazione del prodotto che acquistate a scaffale sono definiti, diciamo, catena di approvvigionamento e anche il software oggi è un pacchetto formato da una serie di dipendenze perché il software ha al suo interno varie librerie spesso, anzi in quasi tutti i casi, librerie open source e poi passa attraverso vari step di build, di pacchettizzazione, di testing naturalmente le dipendenze non riguardano soltanto le librerie che compongono il software ma anche dipendenze di sistema e i container e ognuno dei passaggi della build del software appunto accede a servizi esterni scarica dipendenze, scarica container poi crea un pacchetto che viene passato al livello successivo e poi magari deployato e pronto per essere scaricato o installato sulle macchine ecco, questa è la supply chain e ognuno di questi passaggi può essere indebolito perché per esempio si può scaricare una dipendenza da una sorgente compromessa oppure la dipendenza stessa può essere stata compromessa attraverso attacchi di vario tipo dall'ingegneria sociale a compromissioni dei server da cui vengono scaricati i pacchetti e quindi questo singolo hack in un punto della supply chain va a infettare poi il pacchetto finale questo è quello che è successo con l'attacco a SolarWinds dove la compromissione di una delle dipendenze del software Orion di SolarWinds ha fatto sì che tutte le aziende clienti di SolarWinds sono state infettate da un malware presente in un aggiornamento al software che nessuno poi aveva controllato diciamo ecco, e questa catena può essere irrobustita certificando ogni passaggio della build, ogni step guardando bene che tutte le dipendenze siano certificate siano listate, non abbiano vulnerabilità note eccetera e le istituzioni si stanno concentrando proprio sul chiarire quali sono i requisiti minimi per essere considerato safe per un software per essere considerato safe ed essere deployato e installato è un pochino più complessa di così però ho cercato un po' di riassumerla quindi per capire un po' le differenze tra la cyber security classica hacker incappucciati sono dentro e invece supply chain security ah, ho scaricato un pacchetto con una dipendenza nota non dovevo farlo, adesso sono anche responsabile sono ritenuto responsabile di questo fatto se volete saperne di più di come la comunità informatica open source sta rispondendo a questo genere di attacchi, di debolezze ecco, andate sul sito di open ssf che è open source security foundation anzi, open ssf, eccolo qua e vedrete una serie di tool, di best practice, di blog post insomma che spiegano un po' cosa si sta facendo qual è il problema, come si sta risolvendo anche il dialogo con le istituzioni basta, questa era un po' una intro al tema ma ora andiamo a vedere quali sono le news spiacevoli di cui dobbiamo parlare oggi e torniamo a parlare di Lockbit se non vi ricordate cosa è successo la scorsa settimana a Lockbit vi consiglio di andarvi a sentire un paio di puntate fa del podcastone dove ho descritto la vicenda di Operazione Kronos dove la National Crime Agency britannica assieme ad altre forze dell'ordine sono riusciti ad entrare in un server di Lockbit e praticamente fare disruption buttare giù questa organizzazione o quantomeno questo era quello che si sperava ma c'è qualche altro aggiornamento che adesso vi dico per esempio vado a prendere da Bleeping Computer una storia del 22 di febbraio che ci dice che è possibile che Lockbit stesse costruendo la versione successiva del suo software di ransomware sapete che l'ultima versione nota di Lockbit è la 3.0 apparentemente stava preparando la 4.0 ed è un'analisi che ha fatto la compagnia di cyber security Trend Micro che ha analizzato codice sorgente trovato sui server e ha scoperto appunto questa nuova versione del ransomware e tra l'altro mentre la versione precedente di Lockbit era scritta in C e C++ l'ultima versione che è ancora work in progress però vicina alla fase di produzione ecco è scritta in .NET ed è compilata con Core RT e pacchettizzata con Mpress quindi siamo nell'ambito appunto .NET Trend Micro ha detto che il malware include un file di configurazione JSON che ha al suo interno insomma i parametri di esecuzione tutto quello che pensate fosse la configurazione di un software e supporta tre modalità di encryption che sono basate su IS e RSI sono fast, intermittent e full supportano anche la esclusione di alcuni file di alcuni directory e può fare la randomizzazione del file naming cioè quando va a fare encryption di una partizione ecco può cambiare in maniera random i nomi dei file cosicché se anche si riesce a fare il restore del materiale criptato ecco poi andare a ripristinare i file è ancora più complicato perché tutti sono stati rinominati poi ci sono ancora opzioni addizionali come un meccanismo di self-delete che va a scrivere sopra i propri stessi file con dei byte null quindi in pratica per autodistruggersi e se volete approfondire di più su Trend Micro sul sito di Trend Micro trovate un'analisi tecnica molto più dettagliata che vi spiega insomma questo nuovo malware che vi ripeto insomma è stato scovato è stato recuperato durante la operazione Kronos e tra le altre informazioni che operazione Kronos ha catturato e poi ha fatto disclosure con quel sito che andava a prendere in giro proprio Lockbit stesso nello stesso formato con cui Lockbit va a fare estorsione alle proprie vittime quindi con le caselle che dicono entro quanti giorni vengono pubblicate informazioni ecco si sono prese nuove informazioni sono state pubblicate una di queste informazioni è quanti bitcoin di quanti bitcoin era in possesso Lockbit al momento di questa operazione e si è scoperto che aveva più di 125 milioni di dollari in pagamenti ecco soltanto negli ultimi 8 mesi questo risulta dall'analisi di una serie di wallet di criptovalute ecco associate all'operazione infatti le forze dell'ordine hanno ottenuto più di 30.000 indirizzi di wallet bitcoin che sono associate ai pagamenti al gruppo più di 500 di questi indirizzi sono attivi sulla blockchain e appunto hanno ricevuto più di 125 milioni di dollari al valore corrente di bitcoin tra luglio 2022 e febbraio 2024 e questi fondi rappresentano una combinazione di quello che le vittime di Lockbit hanno pagato in riscatti ma una parte significativa sono anche le fee che gli affiliati pagano a Lockbit dopo aver ecco fatto le loro operazioni che è una fee del 20% e quindi facendo un po' i conti viene fuori che il totale dei soldi versati dalle vittime di Lockbit in pagamento dei propri riscatti è molto superiore se si tratta dell'ordine delle centinaia di milioni di dollari e il gran finale dei reveal della settimana scorsa di venerdì doveva essere la rivelazione dell'identità di Lockbit Sap il leader di Lockbit però in realtà questa rivelazione ecco non c'è stata quindi il gran finale ecco è stato abbastanza debole The Register lo paragona al finale della stagione 8 di Game of Thrones insomma un po' deludente infatti non ci sono state rivelazioni sulla sua identità né su dove viva e cosa faccia ma ci sono dei dati che in parte già si sapevano per esempio il fatto che lui viva negli Stati Uniti o in Olanda è stato confermato falso un'informazione falsa che già però si sapeva si sapeva che fosse così altre informazioni dicono che lui guidi una Mercedes e non una Lamborghini come era stato precedentemente comunicato ecco e poi questo piccolo post si chiude con queste affermazioni noi sappiamo chi è noi sappiamo dove vive noi sappiamo quanto guadagna e Lockbeats Up è in relazione con le forze dell'ordine adesso cosa voglia dire esattamente è in relazione con le forze dell'ordine perché l'inglese è has engaged with e quindi è in relazione si è fidanzato non so bene cosa intendessero in questo punto non lo sa bene nessuno in realtà infatti ci si è chiesti cosa volessero dire però le forze dell'ordine non hanno risposto alla richiesta di commenti ulteriori ma insomma questo è un po' quello a cui si è arrivati non ci sono molti altri dettagli ma Lockbeats è talmente sicura che nessuno conosca la sua identità l'identità dei suoi membri di più alto rango che addirittura ha offerto una taglia a chi gli messaggia i loro nomi cioè se qualcuno riesce a messaggiare sui forum naturalmente come VX Underground riesce a messaggiare ai membri di Lockbeats i loro nomi reali loro pagano una taglia la taglia l'hanno addirittura aumentata prima di questo attacco delle forze dell'ordine era a un milione di dollari adesso l'hanno portata a 20 milioni di dollari tanto per significare quanto sono sicuri che nessuno sappia la loro identità e poi c'è la grande brutta notizia della settimana cioè il fatto che Lockbeats ha ripreso le proprie attività ha ripristinato dei server e è andato avanti come se nulla fosse apparentemente purtroppo ci dice una news su Bleeping Computer Lockbeats ha rilanciato le operazioni di ransomware su una nuova infrastruttura pochi giorni dopo in realtà l'hacking dei loro server da parte delle forze dell'ordine e sta minacciando di concentrare gli attacchi ancora di più sul settore governativo quindi in pratica per attirare ancora di più l'attenzione ha creato questo nuovo sito con i classici countdown a varie vittime ci sono vittime di attacchi che già si conoscevano e in più ha messo una casellina per l'FBI dove ha fatto queste dichiarazioni dove ha detto in pratica che ora è tutto a posto e tornerà avanti ha pubblicato anche una comunicazione dove ha detto che l'FBI lui si riferisce a FBI come tutte le forze dell'ordine insomma ha detto che la FBI è riuscita a entrare in due dei suoi server perché dopo cinque anni in cui ha nuotato in mezzo ai soldi è diventato molto pigro ecco questa è un po' la retorica di Lockbeatsup e si è preso la responsabilità della sua negligenza ecco la sua negligenza e irresponsabilità ha lasciato che i server PHP non fossero patchati quindi con quelli sono riusciti poi a entrare ma ora ha aggiornato i server con PHP e ha ripreso l'attività ripristinando da alcuni backup che evidentemente avevano ha parlato anche della motivazione per cui secondo lui FBI ha attaccato i server di Lockbit ed è in seguito all'attacco ransomware a Falton County in Georgia è successo a gennaio Falton County è una delle contee più grandi della Georgia e tra l'altro sta ancora cercando di riprendersi da quell'attacco ecco Lockbit dice che in seguito a quell'attacco l'FBI ha attaccato con ancora maggior forza i server di Lockbit e poi è riuscito appunto a entrare perché le informazioni che Lockbit è riuscito a sfiltrare da Falton County sono parecchio sensibili e riguardano anche dei documenti sul processo a Donald Trump che potrebbero influenzare le prossime elezioni americane e poi dicono che appunto l'attacco non ha fatto altro che rallentare un po' le operazioni e tutti i decryptor le chiavi dei decryptor che sono riusciti a ottenere in realtà sono unprotected decryptor cioè sono dei decryptor per degli attacchi di basso livello ecco da affiliati che vanno a estorcere qualche migliaia di dollari e non sono diciamo significativi per il business di Lockbit in generale su The Register ho trovato alcune informazioni aggiuntive sul leak di dati da Fulton County che Lockbit appunto è riuscita a ottenere riguardano anche alcune informazioni confidenziali sull'identità di membri della giuria coinvolti in processi a assassini quindi cose abbastanza sensibili e poi a questo caso Donald Trump quindi questo finora è quello che sappiamo la brutta notizia appunto è che Lockbit è tornata in azione sembra ancora più incacchiata e sembra che voglia aumentare gli attacchi rivolti verso le istituzioni verso i siti governativi vediamo un po' come andrà se ci saranno aggiornamenti naturalmente il buongiorno sarà qua a riportarveli ora vi do qualche altra notizia di security in breve una riguarda Composer Composer è il package manager di PHP quindi si parla proprio qua di supply chain cioè del tool che è usato nei progetti PHP per scaricare le dipendenze Composer dovete aggiornarlo se avete Composer qualche settimana fa sul blog di Composer è apparso un blog post che invita l'aggiornamento di Composer alle versioni 2.7 o 2.2.23 quindi se avete versioni inferiori andate ad aggiornare perché ci sono delle vulnerabilità abbastanza importanti proprio sull'eseguibile cioè se siete utenti di Composer ed eseguite Composer sulle macchine sui server ecco in quel caso potreste avere dei problemini soprattutto se le eseguite come root infatti queste vulnerabilità riguardano l'esecuzione il loading di due file specifici che sono installed.php e installedversions.php che sono due file che Composer crea nella cartella vendor quando vai a installare le proprie dipendenze sono file che poi Composer carica perché servono agli altri plugin per vedere appunto l'elenco delle versioni installate eccetera però questi file non dovrebbero essere caricati a runtime quando Composer viene eseguito senza plugin per esempio per fare l'update di se stesso ecco in quel caso non deve caricare plugin ma si è scoperto appunto che anche in questi casi Composer andava a fare il loading di quei file e quindi un attaccante può scrivere dentro quei file del codice da eseguire magari come root ecco e questo causa un potenziale problema quindi Composer va a leggere ed eseguire il codice presente dentro quei file questo può causare il problema questo problema è stato risolto facendo come disabilitando il loading di quei file all'interno della cartella vendor quando non sono abilitati i plugin e in più facendo attenzione controllando che il contenuto di quei due file sia effettivamente contenuto generato da Composer e non alterato ecco da un utente da un attaccante con questi due fix le versioni nuove di Composer non sono affette da questa vulnerabilità che però è una cosa abbastanza importante quindi mi raccomando di aggiornare e mi raccomando anche di non eseguire Composer come root questa è una raccomandazione generale è anche presente sul sito di Composer e su questo blog post non eseguito Composer come root e se proprio dovete eseguire Composer se fa date come root e non avete altra scelta non date ulteriori parametri perché potrebbero poi essere portare a compromissioni ecco ma vi do altre due cose in super velocità una riguarda un governo il governo della Polonia perché Donald Tusk che è il nuovo primo ministro polacco dopo le elezioni di qualche settimana fa ha fatto una dichiarazione abbastanza importante abbastanza clamorosa cioè ha detto che il precedente governo polacco che era il governo di destra di Law & Justice il partito Law & Justice quindi legge e giustizia già sentite queste eh? ho già sentito questo claim in posti più vicini a noi comunque il partito Law & Justice ecco la rivelazione che ha fatto Donald Tusk è che hanno utilizzato per molti anni e con migliaia di target il software Pegasus Pegasus è un noto software di spyware creato dall'esercito israeliano che consente di avere completo accesso a un dispositivo mobile completo accesso alle foto ai documenti multimediali alle chiamate quindi a tutto quello che c'è in un device e anche all'elenco dei contatti la cronologia di navigazione e consente anche di attivare il microfono e la telecamera per guardare quello che succede proprio in tempo reale quindi è naturalmente una compromissione estremamente grave di un device mobile Donald Tusk ha detto di essere in possesso di documenti che testimoniano l'acquisto di questo spyware Pegasus e anche il suo utilizzo ora sta parlando con altri ministri per capire la portata di questo attacco però insomma questa era un po' la news e l'ultima che vi do riguarda torniamo alla nostra intro quindi riparlo di SolarWinds perché SolarWinds è una piccola cosa naturalmente rispetto alla gravità delle ultime notizie SolarWinds ha patchato delle CVE delle CVE abbastanza gravi tre sono classificate sopra il livello 9 sapete che CVE ha un livello da 1 a 10 ecco come gravità una è a livello 9.0 le altre due sono 9.6 e consentono dell'esecuzione di codice remoto quindi se avete software SolarWinds in particolare Access Rights Manager dovete aggiornare assolutamente perché altrimenti ecco siete vulnerabili a queste CVE tracciate da SolarWinds la riporto solo perché insomma quando vedo passare il nome di SolarWinds nelle news di Cybersecurity è come si accende sempre una lampadina vado un po' a vedere questa volta sono delle CVE è grave comunque perché naturalmente quando escono fuori delle CVE è comunque grave ma è un po' meno che trovarsi mezzo mondo compromesso da questo attacco infine due link veloci il primo se volete approfondire uno dei meccanismi con cui ci stiamo cercando di difendere dagli attacchi alla supply chain sono gli SBOM S-B-O-M poi SBOMS perché è plurale l'inglese funziona così insomma SBOMS gli SBOMS sono un meccanismo fondamentale per tracciare l'elenco delle dipendenze sono in pratica la lista degli ingredienti di un software ecco questo potrebbe essere il paragone insomma se volete un po' capire cosa sono come funzionano e perché sono fondamentali per la sicurezza di un'azienda di un'organizzazione vi consiglio questo blog post apparso sul blog di Sonatype che è uno dei nomi che apparirà più spesso se cercate un po' la cyber security nuova della supply chain ecco questo blog post si intitola why SBOMS are essential for every organization poi naturalmente vi lascio il link e vi spiega un po' quello che vi ho detto che cos'è perché è importante come funziona eccetera eccetera quindi vi consiglio di andare a leggere l'ultimo link che vi do non c'entra niente con la cyber security ma siccome è un tema di cui abbiamo parlato anche recentemente che torna abbastanza spesso questo è un post apparso sul blog The Read Me Project che è un blog GitHub che va proprio a dare voce ai contributor dell'open source e questo post si intitola non-code contributions are the secret to open source success e come sembra dal titolo appunto va a parlare delle contribuzioni a progetti open source o all'open source in generale che non sono codice per farvi capire acqua appunto che contribuire non è soltanto fare una pull request e vedersela immergiata ma ci sono vari modi per contribuire e se non siete ancora convinti da qua magari potete ottenere qualche ispirazione quindi vi consiglio di andare a vedere ripeto non-code contributions are the secret to open source success poi vi lascio il link dal blog Read Me Project ho finito qui grazie per avermi seguito anche oggi se volete contattarmi su Mastodon mi trovate edo at continuousdelivery.social altrimenti su LinkedIn potete scrivermi anche in privato rispondo cerco di rispondere sempre a tutti altrimenti su YouTube ci sono i contatti anche email insomma quello che volete io se avete delle domande delle cose particolari cerco di rispondere è un po' una mission spero di fare un lavoro gradito basta vi lascio e ci vediamo una prossima puntatona ciao